ciao ragazzi 28 aprile domenicale un crimine al giorno ci porta nell'ambiente di quella marea di delitti che in italia così come nel mondo rimangono assolutamente impuniti e vengono effettivamente lasciati li cosiddetti cold cases che hanno anche in alcuni casi delle caratteristiche rituali degne di nota e che rimangono sostanzialmente nella memoria di chi vuole andare a cercare dei dettagli quindi oggi parliamo di lolita parliamo di una cantante al secolo graziella franchini che è stata uccisa nel 1986 dopo una carriera che era andata diciamo al ribasso pensate una carriera quello di graziella franchini che era iniziata a giovanissima al festival di zurigo e poi il festival di sanremo nel 1973 dove canto innamorata io ma poi piano piano era andata scemando e si era sostanzialmente ridotta alle sagre di paese per sopravvivere per sbarcare insomma il lunario annunciava che sarebbe tornata annunciava anche di avere una relazione con un uomo che pareva avere a sua volta già una relazione è un caso molto particolare che io vi butto per questo crimine al giorno della domenica adesso vi faccio vedere la scheda perché effettivamente è uno dei tantissimi casi che è rimasto ancora al giorno d'oggi irrisolto e per di più ha anche dei dettagli rituali particolari o almeno che hanno l'aspetto di essere dei dettagli rituali e che si situano all'interno insomma di un crimine che sembrerebbe andare oltre quello che effettivamente è stato ma andiamo a vedere la scheda siamo nel 1986 il luogo è il residence la marinella alla mezziaterne per la sera prima del 28 aprile 1986 cioè il 27 aprile la aspettavano a san leonardo di cutro per la festa del patrono avrebbe dovuto cantare le sue canzoni sul palco insomma ma quella sera non si è presentata un amico a lei vicino andò sostanzialmente a cercarla fino alla mattina dopo all'interno del residence dove risiedeva per l'evento a cui doveva partecipare e trovò effettivamente graziella franchini di anni 35 come vedete in arte lolita uccisa a coltellate e sdraiata all'interno accovacciata in realtà all'interno della doccia con un bottiglione di vino la cui testa era stata letteralmente segata e posto in mezzo alle gambe è stata uccisa a coltellate quindi con ferite di arma da taglio molto molto profonde che arrivavano a far esporre addirittura gli intestini ci sono diversi sospetti soprattutto relativi al a quello che lei aveva dichiarato relativamente alla sua ripresa di carriera è stato chiamato in causa un produttore ecco che a quanto pare voleva voleva utilizzarla per rilanciare lei probabilmente rilanciarsi anche in termini economici ma soprattutto questo cadavere all'interno di questo box doccia e appoggiato su una coperta con questo bottiglione con la testa tagliata in mezzo alle gambe viene ricondotto soprattutto innanzitutto a una possibile avversaria rivale in amore tale teresa tropea di anni 25 quindi più anziana di più giovani di una decina d'anni rispetto a graziella studietessa in medicina e rivale in amore della vittima non viene dischiuso all'interno del caso il insomma qual è l'identità di una o più persone che potessero essere in diciamo a contatto con entrambe le due quindi la sospettata e l'uccisa e soprattutto viene chiamata in causa anche per eventuale collaborazione poi sentita e poi chiamata addirittura processo la madre di teresa tropea tale caterina pagliuca di anni sessanta casalinga ora il crimine sembra avere dei dettagli rituali ma in realtà non è stata fatta nessun tipo di manipolazione sul corpo tipica dell'atteggiamento di un serial killer piuttosto sembrerebbe qualcosa legata a una vendetta non si è mai riusciti a capire esattamente quel bottiglione vuoto con la testa perfettamente tagliata che tipo di legame potesse avere con la vittima ma è estremamente interessante perché l'ambiente è veramente da polaroid di quelle da film su serial killer o da film di crimini di cold cases mai mai risolti è qualcosa di eccezionale ma rimarrà agli atti come uno dei tantissimi crimini particolari in italia mai risolti tant'è vero che io l'ho segnato come caso aperto ovviamente il colpevole non verrà trovato e al giorno d'oggi non è stato ancora trovato sebbene siano state fatte delle ricerche che vanno dal sud al nord italia alcune addirittura la legavano al alla possibilità di avere contratto dei debiti con la banda della magliana addirittura che sia finita quindi nel calderone sostanzialmente di tutta una serie di vittime che potevano avere a che fare con la banda della magliana e non aver eventualmente ripagato dei debiti per il tentativo di rilancio c'è chi parla del fatto che ci fosse un procuratore insomma di agente che potesse essere legato anch'esso la banda della magliana è legato al rilancio in carriera di questa artista in arte lolita ma nulla è stato trovato nel 2024 siamo ancora qua a prendere diciamo a guardare questo caso come uno dei tantissimi colchesi italiani ma decisamente interessante per questa forma simbolica che ha avuto anche il crimine che si è consumato quel giorno nel residence la marinella alla mezzia terme 1986 cadavere appunto verrà scoperto il giorno dopo attorno alle 10 20 in queste condizioni ma nessun tipo di soluzione verrà data a a questo tipo di di crimine ora ragazzi questo è uno dei tantissimi spunti plausibili interessanti di ricerca all'interno della rete per un elenco di crimini sconfiato che non finisce più questo è il crimine al giorno di oggi ovviamente lo manderò anche oggi in premier aperto e dal vivo con voi per eventuali commenti chat domande eccetera e ovviamente sto creando il materiale per la settimana prossima per dei contenuti sia cinematografici che per dei nuovi contenuti ovviamente macabri per quanto concerne la botteguccia dei sigilli e il suo rinnovamento con un nuovo format in arrivo io vi ringrazio ringrazio tutti ringrazio anche tutte le nuove persone che si stanno collegando al canale ci vediamo domani con un'altra pillola di crimine come sempre tra la botteguccia dei sigilli alla botteguccia crack apart e in premier con voi live chat ciao ciao buona domenica buona domenica buona domenica buona domenica buona domenica buona domenica buona domenica